Albano Loredana lecciso dopo Favois ha preso una decisione drastica per la figlia Jasmine La reazione di Albano Jasmine Carisi sta diventando un nome sempre più importante e Nonostante la ragazza abbia solo 19 anni è probabile che sentiremo sempre più spesso parlare di lei Jasmine ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo musicale incidendo un brano Ego Titolo scelto da lei stessa dopo essersi consultata con i genitori e ha fatto un boom di visualizzazioni E poi forte della presenza del padre Ha partecipato ad un programma di grandissimo successo Favois Senior in prima serata condotto da Antonella Clerici Accanto a nomi importantissimi del panorama musicale oltre al papà Albano C'erano infatti Gigi D'Alessio Loredana Bertè e Clementino Favois Senior è terminato il 20 dicembre con la vittoria di Erminio Sinni Loredana lecciso ha preso una decisione importantissima per la figlia in queste ore E sta circolando una notizia molto importante per la vita professionale e futura di Jasmine Carisi La mamma Loredana lecciso a quanto riferisce il giornalista Alberto Dandolo e alla ricerca di un agente per la carriera di Jasmine Alberto Dandolo sul settimanale oggi ha dichiarato Jasmine ha una bellissima voce e il suo desiderio è farsi strada nel mondo della musica E poi ha lanciato la bomba Pare che Loredana lecciso sia alla ricerca di una persona di fiducia che possa seguire e curare con le professionalità il percorso artistico della sua bambina Cosa pensa Jasmine della sua partecipazione ad Favois Senior? Jasmine Carisi Dopo la sua partecipazione a Favois Senior si è detta entusiasta dell'esperienza e di come è stata trattata E se Antonella Clerici ha raccontato che Jasmine è una ragazza molto educata e rispettosa Dal canto suo Jasmine ha sottolineato quanto la presenza rassicurante e materna della Clerici sia stata per lei fondamentale Nonostante Jasmine fosse in coppia con il padre Albano per lei è stato prezioso avere accanto Antonella Clerici Jasmine ha anche detto che non si sente affatto pronta a vivere l'esperienza del palco di Sanremo Anche se in coppia con il padre perché per lei è assolutamente prematuro solo pensarci Dal canto suo la mamma Loredana che si è resa conto sia delle doti artistiche della figlia sia della sua capacità e disinvoltura nello stare su un palcoscenico Si è messa in moto e Dunque presto Jasmine avrà accanto un agente che saprà guidarla nel modo migliore Fino ad ora non si conosce la reazione di Albano ma considerando che Loredana sta proseguendo nella sua idea Con tutta probabilità Albano è d'accordo Grazie a tutti Grazie a tutti